Mancano solo quattro settimane al weekend di Porta Aperte, il convegno annuale della nostra missione in cui avremo l'opportunità di conoscere e ascoltare ben due ospiti dai territori di persecuzione. Inoltre presenteremo due nuovi libri, potremo seguire dei seminari tematici e pregare e lodare Dio insieme. Come staff della missione ci siamo chiesti più volte come poter pregare in vista di questo evento. Il nostro desiderio attraverso la lunga esperienza al fianco dei perseguitati è quello di suscitare un risveglio nella chiesa, di suscitare una chiamata missionale, una vocazione pastorale e un impegno al discipolato. Porta Aperte desidera benedire la chiesa italiana favorendo guarigione spirituale, guarigione fisica, relazionale, andando oltre a barriere denominazionali. Sì perché solo così potremo entrare nel futuro con forza, carichi, pronti a vivere per il re senza riserve. Sono già oltre 400 le persone che hanno deciso di unirsi a noi per questo weekend, ma ci sono ancora posti disponibili. Quindi ti invito a prenotare la tua partecipazione, ti aspettiamo al Balla Congressi di Bellaria a Rimini dal 10 al 12 maggio. Puoi prenotare il tuo posto visitando il nostro sito portaapertitalia.org. Ci vediamo al convegno e Dio ti benedica.